Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti, già si può stare per te, bene. Ciao Carlo, ciao Maria, mi sembri un po' Maria Cagliana, un po' madame. Lo dicono tutti, questa è la storia di una persona che un giorno decide di fare un viaggio, vorrebbe realizzare un sogno e vuole andare a Siena, va alla stazione, sale sul treno, ma il treno non parte, allora ci riprova il giorno dopo, arriva alla stazione, vorrebbe andare ad Alcuna, sale sul treno ma ce lo scoppavo dei treni.